... Dottore, è arrivato questo pacchettino a contrassegno. Vieni da Hong Kong. Bene, lo stavo aspettando. Va a vedere ammalati, va. Tanto tempo che l'aspettavo. L'aspettavo la miracolosa della potenza, ma schicchi. Ammalati, sti giudizi, so. Prvo, mamma, po. Ammalati, bestiaghi. E mo' per farlo tornare normale, come se fa? Basta un fischio. E mo' passiamo alla pratica. Andreina, Andreuccia. Che pio te spappolano, sai. Ammazzi sti cinesi, ho dubito le sole c'est'anno. Mezzo miure. Andreina, Andreuccia, vieni un po' qua. Che mo' ce penso io. Mi ha chiamato? Guarda un po' là sotto. Guarda un po' là sotto. Ma chi ti ha dato il permesso da fischiare? Va a chiamare ammalati, va. C2, mezzo milione ben costato.